Ciao ragazzi e amici del Mugello, vi ricordate ancora di me? Sono il Gedo, ovvero Cristian Ghedina, quel matto che proprio qui dove mi trovo in questo momento, sulla Strife di Kithwell, ho fatto a 140 all'ora la spaccata sull'ultimo salto e quindi si può dire che di velocità e di rischio me ne intendo io e quindi volevo dirvi una cosa che siate silici con la guida di un'auto non fate le teste di alcol, se avete bevuto passate le chiavi in un amico.